Ben trovati in compagnia di una nuova edizione del telegiornale di Telecattolica. In seguito alla sospensione delle messe per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, il Vescovo di Lucera Troia, Monsignor Giuseppe Giuliano, ha diffuso un messaggio rivolto a tutti i fedeli. Sentiamo. In seguito alla sospensione delle messe, il Vescovo di Lucera Troia, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Giuliano, ha diffuso una lettera rivolta ai fedeli, nella quale esorta. Dopo la necessaria verifica con i Vescovi della Puglia, vi invito ad accogliere le norme del governo italiano circa le cerimonie religiose. Il comunicato stampa della Conferenza Episcopale Italiana e quello dei Vescovi Pugliesi è sul sito della nostra diocesi, con le indicazioni in merito, indicazioni che accolgo in pieno e che invito a recepire con senso di responsabilità. Monsignor Giuliano prosegue. Le norme impongono tra l'altro la sospensione della celebrazione partecipata della Santa Messa, pure nel giorno di domenica, almeno fino al 3 aprile. Un grande sacrificio per la nostra fede. La domenica, giorno del Signore della Chiesa, appartiene alla tradizione apostolica, ininterrotta da più di duemila anni, da quel primo giorno dopo il sabato, di quando il risorto incontra i suoi amici, chiusi nel timore e nella paura, ed apre i loro cuori alla gioia della missione. Che cos'è la domenica senza l'incontro eucaristico con il Signore e con i fratelli? Il virus impone una penitenza notevole alle nostre comunità, anche se in nome della solidarietà sociale. Il Vescovo di Lucera Troia continua. Come il digiuno può fare apprezzare il valore e il gusto del cibo, così una tale congiuntura può avvolgersi in occasione propizia, per riappropriarci del valore della domenica, giorno del Signore, e della bellezza della celebrazione domenicale dell'Eucaristia. L'abitudine ci aveva forse fatto perdere di vista il senso e la grazia del radunarci di domenica in domenica, in attesa della domenica senza tramonto della venuta gloriosa del Signore. Monsignor Giuliano conclude la lettera. Non manchi in queste domeniche di forzata astinenza dalla celebrazione eucaristica un momento di preghiera personale e familiare, con l'ascolto di una o di tutte le letture bibliche che la Chiesa propone. Cristo Gesù abbia misericordia di noi, delle nostre comunità, dell'intera umanità. La Vergine Madre ci sostenga e ci accompagni. Lo stop delle attività sta mettendo in ginocchio vari settori. La bilateralità artigiana si attrezza per sostenere le aziende e i lavoratori dell'artigianato pugliese in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria. FSBA, il fondo di solidarietà che gestisce gli ammortizzatori sociali di settore, costituito da Confartigianato Imprese, CNA, Casa Artigiani, CLAI, CGL e CISLEWILL, ha provveduto ad allestire un apposito strumento per la gestione delle crisi aziendali innescate dall'emergenza coronavirus. Si tratta di uno specifico intervento di importo pari a quello dell'assegno ordinario, 80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, a supporto del reddito dei lavoratori di aziende costrette a sospendere o ridurre l'attività produttiva in forza di quanto sta accadendo in questi giorni. Gli uffici di Confartigianato Foggia sono a disposizione delle aziende per l'assistenza alla stipula degli accordi sindacali finalizzati alla richiesta di accesso alla prestazione. La Giunta regionale ha approvato tutte le delibere sanità che riguardano ulteriori interventi di adeguamento delle infrastrutture ospedaliere regionali con particolare riferimento al rispetto della normativa di prevenzione incendi. Ha approvato la procedura negoziale per la costituzione del tecnopolo per la medicina di precisione e dell'elenco degli interventi proposto dall'Istituto Tumori Giovanni Paolo II ammessi a finanziamento nell'ambito delle risorse. Confermato il ruolo centrale del progetto regionale di fascicolo sanitario elettronico e istituzione della rete della Regione Puglia per il miglioramento della qualità e sicurezza dei pazienti in terapia anticoagulante orale. Diversi fondi sono stati in particolare destinati alla riqualificazione di presidi ospedalieri dell'ASL Foggia. Ma sentiamo i particolari nel servizio. Le delibere sanità sono state approvate in giunta per quanto riguarda il patto per la Puglia con il provvedimento adottato sono state assegnate tutte le risorse pari a 73,5 milioni di euro. La giunta regionale infatti ha ammesso a finanziamento ulteriori interventi di adeguamento delle infrastrutture ospedaliere regionali con particolare riferimento al rispetto della normativa di prevenzione incendi. Si tratta di due interventi, uno destinato all'ospedale di Bisceglie e l'altro relativo agli ospedali riuniti di Foggia, da 5,5 milioni complessivi per il plesso maternità. Con questa ultima delibera vengono assegnate tutte le risorse disponibili a valere sul patto per la Puglia pari a 73,5 milioni di euro, destinate agli ospedali pugliesi per l'adeguamento antincendio e lavori complementari di riqualificazione a seguito di un lavoro di proficua collaborazione tra gli uffici regionali e le direzioni strategiche, le aree tecniche delle aziende pubbliche del servizio sanitario regionale. Gli interventi riguarderanno anche l'adeguamento a norme del presidio ospedaliero di San Severo Teresa Masselli Mascia per un importo di 960 mila euro, l'adeguamento a norme antincendio del presidio ospedaliero di Manfredonia San Camillo dell'Ellis per un importo pari a 1 milione e 20 mila euro e l'adeguamento a norme del presidio ospedaliero di Lucera Lassaria per un importo di 1 milione e 200 mila euro. Con la collaborazione di tutte le sigle sindacali l'Università di Foggia ha approvato il decreto per lo smart working, letteralmente lavoro intelligente, adeguandosi alle disposizioni introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio del 4 marzo per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. Resterà in vigore fino al 3 aprile salvo ulteriori proroghe e consentirà ai dipendenti che rientrano nelle indicazioni espressamente citate nel decreto di svolgere il proprio lavoro anche da casa. Si tratta di un piano straordinario da lavoro agile, commenta la direttrice generale dell'Università di Foggia Teresa Romei, introdotto per assicurare l'ordinaria funzionalità dell'Ateneo anche durante una situazione emergenziale come quella in corso. Fermo, restando la facoltà di giustificare l'assenza con gli ordinari permessi a disposizione in accordo con il responsabile di servizio e di area, potranno accedere allo smart working delle specifiche categorie. Al via gli interventi del patto per la Puglia che riguardano in particolare l'area interna dei Monti Dauni. Vediamo il servizio. Lavori in corso e cantieri aperti sui Monti Dauni con gli interventi finanziati dalla strategia nazionale area interna. I primi 15 milioni sono stati tutti appaltati per il rifacimento e la messa in sicurezza di diverse strade provinciali. A breve partiranno anche le procedure di gara relative al patto Puglia che ai soli Monti Dauni ha destinato ben 30 milioni di euro. Nell'ultima riunione della cabina di regia di SNAI Monti Dauni, il presidente della provincia di Foggia Nicola Gatta ha comunicato al coordinatore Michele Dedda e ai sindaci dell'area che è stato sottoscritto l'atto con il quale sono state regolamentate le modalità di trasferimento e di gestione delle risorse che interesseranno quasi 500 chilometri di strade da mettere in sicurezza. Tra queste ci sono anche la SP 129 Biccari Roseto Valfortore, la SP 109 di Lucera e la SP 130 Lucera Alberona Roseto Valfortore. Sport pugilato appena 14 anni ma sul ring si incomporta da Leoness e Simona Nardillo di Sansevero che l'associazione sportiva di Mauro Minchillo guidata dal tecnico Enzo Mazzeo e dal campione mondiale professionista Luigi Castiglione sta guidando per consentire di approdare alla squadra nazionale di pugilato l'atleta. L'allenatore Mazzeo è orgoglioso di comunicare che per la prima volta nella storia il pugilato locale vanta un'atleta donna di appena 14 anni, già vincitrice del torneo interregionale lo scorso anno, la quale parteciperà ai campionati italiani junior peso 60 kg che sarebbero in programma nei giorni 27, 28 e 29 marzo ma la sede e la data del torneo è da individuare e confermare a causa dell'emergenza sanitaria in atto. Chiudiamo ricordandovi che l'ufficio diocesano per le comunicazioni sociali della diocesi Lucera Troia in piena collaborazione con il seminario diocesano e con l'emittente televisiva telecattolica comunica che dalla cappella del seminario di Lucera viene trasmessa in diretta televisiva sul canale 110 del Digitale Terrestri, il canale di Telecattolica e sulle pagine facebook Telecattolica Lucera e sentieri incontri e dialoghi di diocesi di Lucera Troia la Santa Messa alle ore 9, nei giorni festivi la Messa viene trasmessa in diretta alle ore 10. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione prestata, arrivederci alla prossima edizione del Tg di Telecattolica.